E ciao a tutti Pocktelenatori, io sono Cineria e oggi ragazzi ci troviamo sull'apertura di un pacchetto di stirpe dei draghi Allora ragazzi vi spiego subito, perché sono un youtuber come gli altri, per però principalmente gameplay di Pokémon E ora anche spacchettamenti, e ora andiamo ad aprire la bustina Cerchiamo di non romperla, almeno così rimanendo, è come l'ho detto Vabbè, forse ho notato una carta rara, ma credo che è il mio buon occhio, intanto qua abbiamo i codici Allora, 1, 2, 3, 4, 5, ok qua Allora, mettiamo un attimo fuoco, ok, ok Hondur, Gotica, Boltoi, Hopip, Kubon, oh Gabite, questo sì che è forte Mantello gigante Energia Energia, vediamo No, Requasa Iex No, non ci credo Oddio, primo pacchetto, primo pacchetto Una Iex No ragazzi, questa deve per forza andare Che fortuna che ho avuto Una Iex ragazzi Una Iex E anche, ma, è anche uno dei miei Pokémon preferiti, Requasa Dopo Bulbasaur No, non ci credo, pacchetto scelto da mio padre Dio mio Quanto è bello Proprio qui Eh, ma che No Ragazzi, come dire Innanzitutto come spacchettamento è stato veramente bello Lo mettiamo subito qua, Requasa Ok Come spacchettamento è stato veramente molto fortunato Però mi piace anche questa energia Pensa così, anche se ho doppia Quindi ragazzi, spero che questa apertura di una bustina di stirpele draghi vi sia piaciuta E noi ci vediamo al prossimo video Bella poca lente